Ciao, è un momento molto particolare. Siamo pronti ad affrontare quello che sarà? Io dico che sono pronti tutti coloro i quali riescono a guardare al futuro con ottimismo. Tu sei pronto Enzo? Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po' e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non fa. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico? E come sono contento. Di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve inventare? Per poter riderci sopra, per continuare a sperare. L'anno che sta arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa l'anno mi dà. Ciao. 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 Grazie a tutti